Musica Io sono in questo governo per ridurre le tasse, non per aumentare le tasse. Questa è sostanzialmente una patrimoniale su un bene già tassato e ipertassato e fra i più tassati in Europa. Sulla questione di se c'è sostanza questa affermazione, cioè se ci sia una patrimoniale, la risposta è no, non c'è una patrimoniale. Questa è una patrimoniale nascosta. La tassa sui risparmi... Adesso la lega è fuori. Ma è fuori da che cosa? No, 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 la lega è dentro, se vogliono escono Letta e Conte. Il governo va avanti e tra l'altro l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale, perché noi dobbiamo seguire il calendario che è stato negoziato con la Commissione europea. Oggi Salvini ha parlato, ha detto che la partecipazione al governo non è in discussione, poi ci vedremo nei prossimi giorni comunque. L'impressione è che l'azione di Salvini in queste ore sia profondamente influenzata dallo smacco elettorale che lunedì le urne hanno consegnato all'analisi di tutti e che gli italiani hanno visto. Buongiorno cari telespettatori, allora cosa c'è dietro lo scontro tra Salvini e Draghi sulla riforma del catastro? Secondo molti, avete sentito adesso Letta, ci sono motivi elettorali, propagandistici, perché tra pochi giorni, come sapete, c'è il turno di ballottaggio e soprattutto i riflettori sono puntati su Roma e Torino, insomma dipende, sono partite aperte ed è ovvio che se i risultati premiassero il centro-destra insomma si ribalterebbe un po' quello che è successo al primo turno. Poi ci sono invece questioni che attengono al merito di questa riforma, Draghi l'altro giorno l'ha spiegato, bisognerà attendere il 2026, però molti insomma temono che poi ci possa essere un innalzamento delle tasse. Stamattina Salvini ha riparlato e ha detto mi fido di Draghi, in pratica ha ribadito che la Lega non ha nessuna intenzione di uscire da questa larga maggioranza però ha detto se Draghi, come ha detto, garantisce che non ci sarà un aumento delle tasse lo metta nero su bianco, insomma questo va scritto. Poi Salvini se l'è presa anche col Comitato Tecnico Scientifico perché a proposito della riapertura delle discoteche che dovrebbe essere tema del Consiglio dei Ministri di oggi ha detto ma quale 35% di capienza, no? Insomma se c'è il Green Pass, questo Green Pass a che cosa serve? Per Draghi sarà comunque una giornata impegnativa come lo sono tutte le giornate che riguardano questa fase, un Presidente del Consiglio, c'è una cabina di regia su tutto quello che riguarda l'istruzione poi dovrebbe esserci una conferenza stampa di Draghi sul PNRR, c'è l'incontro con la Cancelliera Merkel che sta facendo un saluto di addio al Cancellieriato, oggi appunto è a Roma, vede Draghi, prima vedrà Papa Francesco. Ecco, questo tanto per dare il quadro della situazione. Cominciamo da qui, poi parleremo anche delle tante crisi industriali di questo Paese a partire dalla vicenda forse più emblematica che è quella di Alitalia. Bentornato all'onorevole Maurizio Lupi del gruppo Mistono e con l'Italia. Salve. Buongiorno a tutti. Buongiorno, do il buongiorno e il bentornato all'onorevole Pino Cabaras del gruppo Mistono e l'Alternativa 3. Buongiorno. Che è un gruppo all'opposizione del governo Draghi, tanto per ricordarlo, no? Convintamente all'opposizione. Convintamente, fieramente all'opposizione. Saluto e ringrazio Francesca Reddavide che è la segretaria generale della FIOM CGL. Bentornata. Buongiorno, buongiorno a voi. Saluto, Emilia Patta del Sole 24 Ore che è una giornalista che di cose di politica e parlamentari se ne intende come. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei partire proprio da Emilia Patta per chiederle che idea ti sei fatta di questo scontro tra Salvini e Draghi. Cioè, prevalgono le ragioni elettorali oppure poi, come molti sostengono, entriamo nel merito della delega fiscale in generale, ma soprattutto per quanto riguarda la questione della riforma del catastro. Che dici? Secondo me, sicuramente in questo momento prevalgono le questioni elettorali. In questo, lei ha ragione. La performance della Lega del centrodestra non è stata brillante, per così dire, nelle grandi città e come giustamente facevi notare tu, un ribaltamento dei risultati a Roma e Torino già introdurrebbe una narrazione diversa di queste elezioni. Anche perché siamo mediaticamente tutti concentrati sulle grandi città, come è giusto che sia, ma non dobbiamo dimenticare che nel resto del paese, nei comuni più piccoli e nell'Italia profonda, come si dice, il centrodestra è ancora maggioranza del paese. Quindi anche eletta il PD non debbono cullarsi sugli arlori. Quindi è chiaro che Salvini è messo sotto accusa all'interno del suo partito, dall'ala governista, che è impersonata soprattutto da Giorgetti, dai governatori del Nord, che hanno avuto, ricordiamo, per tutta la vicenda del Green Pass, un atteggiamento opposto a quello di Salvini. Scusa se ti interrompo, perché ci dà i governatori del Nord, che però in una lettera, nel caso della riforma del Catasto, hanno detto attenzione, insomma ha ragione Salvini. Sì, vabbè, diciamo che quella lettera è stata anche imposta da Salvini, come prova di leadership, questo c'è anche a dire, insomma, ha detto qui comando io il capo, sono io come è giusto che sia e l'ha un po' imposta. Questo delle tasse è un problema invece reale, come ricordavi, perché il centro-destra e la Lega sono da sempre contro l'aumento delle tasse. Però è chiaramente anche un po' strumentale, perché ha ragione Draghi quando dice qui si tratta di fare un grande censimento, diciamo così, degli immobili in Italia, che non si fa da decenni, per aggiornarlo. E poi, alla fine di questo percorso, che sarà oltre il 2006, il governo di allora, che non sappiamo se sarà il governo Draghi, insomma si immagina di no, deciderà cosa farne politicamente di questi dati. Ora, è chiaro che una revisione del catastro ha evidentemente uno scopo anche di riequilibrio, quindi non si tratta di un aumento delle tasse to cure, non avrebbe senso aumentarle sulla prima casa, però sappiamo che ci sono degli immobili, dei vani, degli appartamenti nei centri storici, che sono di fatto immobili di pregio, che sono ancora selezionati come immobili popolari. Quindi questo in un certo senso sarebbe una questione di giustizia sociale, di una forma diversa di redistribuzione del reddito. Ecco, non è una patrimoniale, ma sicuramente ci si può aspettare, dopo questo enorme lavoro, un aumento delle tasse su quegli immobili di pregio. Ma questo non dovrebbe riguardare la maggioranza di noi che vive in casse normali. Pensiamo solo che una casa di nuova costruzione risulta avere una rendita maggiore a volte di una casa, faccio un esempio, in piazza di Spagna a Roma. Sì, insomma, in pieno centro storico. Più che equità sociale è anche una questione di logica, insomma, di buon senso. Allora, riparto dopo la pubblicità, perché è tardissimo, abbiamo cominciato con un po' di ritardo, per sentire tutti gli altri nostri ospiti. Però metto, diciamo, un altro ingrediente nel nostro menu, perché si parla di riforma del catastro. Vi faccio sentire che cosa ha svelato, per così dire, una ricerca l'altro giorno, a proposito dei proprietari di prima casa e anche a proposito dei mutui per la casa. Ci vediamo tra poco. C'è un sistema di lavoro e di sacrifici dietro l'acquisto di una casa che poi viene normalmente coronato in un'età adulta. Incrociare i dati presenti al catastro, all'Agenzia delle Entrate e alla Banca d'Italia su proprietà delle prime case e redditi dichiarati è quanto ha fatto lo studio Elexia per dare conferma ad alcune certezze e svelare, invece, dati meno noti, come quello dei redditi dei proprietari di prime case in Italia. Il 68% circa dei proprietari di abitazione principale, diciamo l'abitazione dove si vive con il proprio nucleo familiare, ha un reddito inferiore ai 26.000 euro l'ordi all'anno. E circa il 94% dei proprietari di immobili ha un reddito inferiore o arriva, diciamo, al massimo a 55.000 euro l'ordi all'anno. Quindi abbiamo sicuramente una fotografia di proprietari di abitazione principale che, diciamo, ha dei redditi medio-bassi. Otto proprietari di case su dieci hanno contratto un mutuo per l'acquisto della propria abitazione e lo hanno fatto, in media, attorno ai 50 anni. Ogni anno circa un milione di persone accede ad un mutuo per l'acquisto della propria casa, ma solo il 3% a un'età inferiore ai 30 anni. Quindi la casa è sicuramente un bene primario, la casa non è un investimento soltanto, mettiamola così, ma è anche il traguardo di una vita. Quindi si acquista casa per destinarla all'abitazione principale, per viverci con il proprio nucleo familiare e si vede con molto meno interesse la possibilità di rimanere in locazione senza possederla. Questo è sicuramente un trend confermato. Oggi è tornata di attualità la revisione delle rendite catastali, negli anni invocata da molti, anche se la questione è sempre rimasta aperta. Chi conosce il settore immobiliare sa che di questa cosa di riforma del catastro se ne parla da moltissimi anni. Oggi ci sono una serie di classi catastali, di categorie catastali che sono esenti dal pagamento dell'Imu. Nella revisione che verrà fatta del catastro sicuramente esisteranno degli strumenti per poter evitare che ci siano dei passaggi di classi in funzione della differente mappatura che si farà delle abitazioni e soprattutto per evitare che all'elevazione dei livelli degli estimi catastali possa poi corrispondere una maggiore base imponibile su cui calcolare l'imposta. Allora intanto Maurizio Lupi le chiedo una cosa, ma il centrodestra, perché ci sono sfumature diverse, la pensa allo stesso modo, cioè teme, è un po' come dire, Draghi dice guardate non ci saranno nuove tasse ma Salvini non ci crede, è un po' questo, adesso lo dico brutalmente. Voi che posizione avete? Beh, intanto la pensiamo allo stesso modo sul tema della casa, semplicemente che è da sempre uno degli elementi fondanti la proposta politica della coalizione di centro-estra, casa della libertà, popolo della libertà, chiamiamola come vogliamo. Anche perché, devo dire, il servizio è veramente molto chiaro, lo dice chi è stato il ministro delle infrastrutture, della revisione del catastro, ne parlavamo già quando ero ministro io dal 2013 al 2015. Il tema è molto semplice, è corretto ed è giusto che ci sia un adeguamento degli estimi catastali, ma questo deve fare i conti con la tassazione sulla casa che è la più alta in assoluto in tutta Europa, proprio rispetto alla caratteristica dell'Italia rispetto al resto dell'Europa, cioè l'80% degli italiani è proprietario di casa, mia mamma e mio papà che sono operai hanno fatto sacrifici a proposito del reddito, ma si sono comprati la loro piccolissima casa con un mutuo che è durato 30 anni. Allora, è vero che sei proprietario di casa, ma con la casa non vai al supermercato, cioè se non hai soldi o non hai uno stipendio e sei proprietario di una casa paghi le tasse sulla cosa, ma non è che vai a prendere la spesa vendendo la casa, è un criterio diverso. Allora, noi abbiamo sempre detto, anche in questo governo, che la revisione degli estimi catastali deve andare avanti, ma questo non può comportare automaticamente un aumento della pressione fiscale sulla casa, anche perché noi vorremmo una diminuzione. Quello che è stato deciso, lo ha chiarito bene Draghi, in maniera molto chiara e molto autorevole, è che non, poi lo scriveremo ancora meglio, c'è il passaggio col Parlamento, quindi Salvini ha una preoccupazione, è giusto che la dica, poi ognuno di noi nel centro-estra ha sensibilità diverse, ma sulla no alla tassazione sulla casa e comunque no all'aumento della pressione fiscale con la revisione della delega, siamo tutti d'accordo. Quello che viene detto in maniera chiara è, perché il 2026? E si è concordato il 2026 e lo scriveremo ancora con chi è. Tanto scusi perché è un lavoro complicatissimo. Sì, primo è un lavoro complicatissimo e secondo, ricordiamocelo, c'è la sfida al 2026, che tutti noi stiamo giocando con il PNRR e con Draghi, cioè al 2026 i 230 miliardi di euro che abbiamo preso, unico paese in Europa, unico paese in Europa, abbiamo preso tutti questi soldi, sia a fondo per tutto che a debito, lo dico per chi ci sta ascoltando, devono essere messi in moto per rilanciare l'economia italiana e portarla alla crescita. Se l'economia ricresce, abbiamo avuto un rimbalzo pazzesco, ma come non può essere un rimbalzo, allora nel 2026 la revisione complessiva, noi diciamo basta la tassazione sulla casa, può essere rivista la diminuzione della pressione fiscale, eccetera. A questo mi sembra la garanzia più alta. Poi per il resto io suggerisco anche agli amici della Lega, nel senso che non ricorriamo nessuno, siamo al governo, siamo al governo con forza, portiamo il nostro regolamento all'interno del governo, così come dico all'amico Letta del PD, la smetta di tirare l'elastico, perché è da tre mesi che tutta la campagna elettorale del Partito Democratico è la provocazione al centro-destra e in particolare alla Lega. E di fatto siete alleati di governo? No, se ne deve fare una ragione, questo è un governo di unità nazionale, straordinario, siamo diversi, ma grazie a Dio, anche con il coraggio dell'atto politico della Lega di sostenere questo governo, sappiamo che per un periodo bisogna lavorare insieme. Se ne faccia una ragione il Partito Democratico. Allora, adesso arrivo da Pino Capras, vuole fare un passaggio su questo però con Francesca Reddavid. Che pensa di tutta questa questione dal suo punto di vista, Reddavid? Io penso che la questione fiscale sia una questione assolutamente molto importante. Noi ci teniamo moltissimo a una riforma del fisco che riporti la progressività prevista dalla Costituzione. Penso che i lavoratori pagano un'enormità di tasse, su uno stipendio lordo di 30.000 euro si paga circa il 48% di tasse, che in questo Paese vengono pagate dai lavoratori e dai pensionati tutte e da altri invece non vengono pagate. Penso che la revisione del catastro sia una cosa corretta, perché naturalmente, come dire, portare in evidenza le cose e risistemarle è sempre un fatto in trasparenza, è sempre un fatto assolutamente positivo. È vero che in questo Paese si è sempre molto investito sulle case, e le persone hanno sempre molto investito sulle case. A me mi colpisce il dato del vostro servizio sull'età di chi fa i mutui. Eh sì, quello sì. Perché è una cosa interessante. Perché non si fanno i mutui sotto i 50 anni o sotto i 30? Perché si è precari e le banche non ti danno il mutuo. È certo. E quindi la casa è un elemento di stabilità in un mondo che si è precarizzato. Questo ci dovrebbe preoccupare. Perché non si fanno i mutui? Perché i lavoratori sono precari. Peraltro ricordo che c'è un provvedimento del Governo che riguarda, mi pare, le under 36, cioè delle facilitazioni, ma certo non è sufficiente se ovviamente uno non ha un lavoro stabile. Ha ragione in questo, la reddavide. Cabras... Ci sono in questa fase di ripresa che nell'industria si sta lavorando tantissimo, sono tutte precarie. Io penso che il Governo si dovrebbe occupare di questo tema quando si parla di ripresa. Sì, però c'è la garanzia adesso, introdotta tra l'altro dall'ultimo provvedimento, proprio la garanzia dello Stato alle banche nei confronti delle giovani coppie che fanno un mutuo per acquistare la casa. Poi però il rapporto tra lo Stato e le banche è sempre un po'... Sì, sì, va bene, ma non era per dire che l'abbiamo fatto, era solo per dire che quella è giusto che sia una strada da percorrere. Allora, Cabras, vediamo che Cabras ho l'impressione sia su un'altra posizione, no? Io vedo un tentativo da parte del Governo di proporre all'Italia una serie di scatole chiuse, perché ha contrattato con l'Europa tante materie, dalla giustizia alla riforma fiscale, alla gestione complessiva dell'economia, all'ambiente, con l'Europa. Questo porta a creare dei pacchetti che però non vengono discussi dal Parlamento. La giustizia è stata discussa due ore in Parlamento ed è una riforma che ha praticamente azzerato centinaia di migliaia di processi. Di fatto ci porterà a questo. Qual è il pacchetto, la scatola chiusa contenuta nella riforma del Catasto? Al momento è un oggetto misterioso. Noi vediamo che c'è un ritorno verso l'austerità europea, perché anche i documenti della recente nota finanziaria ci dicono che si va verso una riduzione del deficit, verso un certo modello che è stato fuggito invece da molti paesi che hanno cercato di rilanciare la propria economia. Quindi vedo dei pericoli di imposizioni fiscali nuove che rendono difficile la vita ai cittadini. Il miraggio di molte giovani coppie di potersi comprare casa rimane un miraggio in questo momento. Non saranno i palliativi di qualche garanzia bancaria a risolvere la questione in un momento in cui tra l'altro si fanno grandi regali a chi acquista le banche per un tozzo di pane? No, no, mi faccio la riflessione perché lei parlava, diciamo, nella sua riflessione c'è tutta la partita europea che verrà, perché per adesso c'è questa situazione. Ricordiamoci che non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid del tutto. Fortunatamente i dati sono molto confortanti in Italia, però ancora non abbiamo superato del tutto la pandemia e ci sarà poi tutta una partita da giocare, non nell'immediato sull'Europa. Anche questa è una partita giocata male, secondo noi, dal governo. Voglio chiedere a Emilia Pazza per una cosa, che senso ha, che significato meglio ha oggi la visita della cancelliera uscente Merkel a Roma, vede il Papa, vede Draghi, dal tuo punto di vista? In un certo senso possiamo leggerla o spiccare di leggerla come un passaggio di consegne, perché non c'è dubbio che con l'uscita di scena della Merkel dall'Europa si pone un problema di leadership europea e il nostro Mario Draghi in questo momento, visto che Macron è impegnato nei prossimi mesi in una difficile campagna elettorale, potrebbe non essere riconfermato Presidente, è sicuramente la figura più autorevole per portare avanti la riforma della governance, la riforma del patto di stabilità, insomma, tutti gli importanti appuntamenti che attendono l'Unione Europea. Quindi possiamo leggerlo in questa chiave, insomma, come un addio ma anche un passaggio di testimone. Un'altra cosa che voglio chiederti, a parte che credo Draghi abbia annunciato sia nell'area addirittura ci siano due consigli dei ministri a settimana, cioè bisogna dare una fortissima accelerazione alle riforme, quindi un grande lavoro da parte del governo e un grande lavoro da parte del Parlamento, ci dovrà essere inevitabilmente, e quindi una forte accelerazione in questo senso. Quello che ti voglio chiedere è tutto quello che sta succedendo, queste tensioni, la Lega da una parte, eccetera, queste fibrillazioni possono in qualche modo mettere sabbia negli ingranaggi del cammino del governo o no, dal tuo punto di vista? Non c'è dubbio che possono, d'altra parte finora l'hanno messa, perché ricordiamo che il provvedimento sulla concorrenza doveva essere approvato e anche il fisco stesso, la Lega fiscale, entro luglio, secondo il Conopogamo del governo, sono invece slittate. Quindi questo clima da campagna elettorale che tutta l'estate ha sicuramente frenato. Draghi ha atteso finora, ma mi sembra che la risposta data ieri sia molto chiara, cioè adesso si deve andare avanti. Quindi anche rispondendo appunto lui con la decisione della Lega di non partecipare al Consiglio dei Ministri, Salvini probabilmente, sicuramente voleva ottenere un rinvio almeno, un rinvio ai ballottaggi, una prova di forza, e Draghi ha fatto capire chiaramente che lui va comunque avanti, anche se di volta in volta un partito si dovesse sfilare o non fosse essere d'accordo. Perché il tempo stringe, entro la fine dell'anno dobbiamo approvare ancora, ora se non ricordo male, più di 30 riforme implementanti del PNRR, la riforma fiscale non è tra quelle maggiormente implementanti, ma è comunque prevista dall'accordo con Bruxelles, quindi bisogna correre. Draghi mi sembra che abbia fatto capire che non c'è tempo da perdere, anche perché come sappiamo a gennaio si aprirà in Parlamento una partita molto importante, che è quella dell'elezione del Presidente della Repubblica, e sappiamo tutti che uno dei candidati, ora vedremo come vanno le cose, è proprio il Presidente del Consiglio, quindi in un certo senso si vuole mettere in sicurezza le riforme, il lavoro del PNRR prima di quell'appuntamento. Quindi mi sembra che Draghi abbia dato un segnale chiaro, Salvini d'altra parte non ha a mio avviso neanche l'intenzione, ma soprattutto ormai non ha più la forza per uscire dal governo, quindi dovremmo attenderci un periodo di fibrillazioni, ma con questo atteggiamento di Draghi non so quanto conviene Salvini continuare a fare strappi quotidiani, non credo che abbia un ritorno elettorale. Allora adesso veniamo ad alcune crisi industriali del Paese molto serie, poi dobbiamo occuparci anche un pochino parlando di politica, del ballottaggio che verrà, però voglio fare due velocissime domande a Lupi, le chiedo due risposte altrettanto rapide, perché dobbiamo andare in pubblicità. La prima, lei ha fatto il ministro, allora si chiamava Ministero delle Infrastrutture, adesso ha cambiato nome, molti sindaci hanno detto sì, qui va bene tutto, però ancora per aprire i cantieri c'è troppa burocrazia, bisogna semplificare molto di più. Ravvisa anche lei questa situazione? Secondo me con l'ultimo provvedimento molti passi avanti si sono fatti, ma la sfida è esattamente quella. Ricordiamo, lo dico anche per chi ci ascolta, che i 26 miliardi l'Europa ce li ha dati, ma come ha detto Gentiloni, tra l'altro al meeting di Rimini, l'Europa entro dicembre valuterà se quei 26 miliardi che sono stati dati all'Italia sono diventati operativi. Il problema dell'Italia da 10-20 anni è sempre il solito, cioè risorse ce ne sono, qui ce ne sono molte di più di quelle che c'erano prima, ma poi non si mettono a terra, cioè non arrivano a cantierizzare. E quindi questo è il punto. Non a caso Draghi dice io devo correre e ci sono gli strumenti per farlo. Io credo che il primo problema, e concludo, è quello di rafforzare la macchina amministrativa con figure professionali che fino ad oggi non ci sono state. Noi abbiamo pagato questo. Quanti giovani sono entrati nella pubblica amministrazione? Quante nuove professionalità abbiamo preso? Penso a ingegneri che non sono solo tecnici, penso al mio ministero, ma sono gestionali, cioè hanno la capacità di... Quindi questa è la prima sfida che abbiamo, perché questo dato è come un macigno altrettanto drammatico. Per fare 100 milioni di investimenti in opere pubbliche in Italia occorrono mediamente ancora odici 17 anni. Possiamo permettercelo? No. Allora, la seconda domanda la faccio dopo, perché è più impegnativa la domanda, ma forse la risposta ce ne occupiamo dopo. Però se me l'anticipa, magari ci penso nell'intervallo. Sì, gliel'anticipo. I dragoni. Ah, va bene. Va bene? Allora, andiamo in pubblicità, dando conto di due cose. Il vice segretario del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, ha detto poco fa, testualmente, Salvini è una mina per il governo e per Draghi. Le elezioni hanno gettato in uno stato confusionale la Lega e poi, come vi anticipavo, intorno alle 12 c'è la conferenza stampa del Premier Draghi, della Ministra dell'Università di Ricerca, Maria Cristina Messa e del Ministro dell'Istituzione Bianchi. Quindi tutta una mattinata dedicata a un capitolo cruciale per l'Italia che riguarda la scuola, la formazione, l'università e la ricerca, ovviamente, considerando che abbiamo vinto il Nobel per la fisica l'altro giorno con Parisi, che per primo ha detto diamo risorse importanti alla ricerca. A tra poco. Una cosa positiva, dopo tanti anni, un gruppo italiano che si riappropria, diciamo, di un qualcosa di importante. Viviamo in una società ormai globalizzata, e quindi chi c'è, c'è. L'importante è che però, ecco, venga mantenuto il polo. È un punto interrogativo. Bisogna vedere quelli che la prendono italiani quello che faranno italiani. È qui specifico. È qui da 138 anni e dopo un lungo periodo di proprietà tedesca torna in mano italiana. Parliamo degli acciai speciali terni, ceduto ora all'italiana Arbedi. Per ora è stato dato solo l'annuncio di vendita, ma tanto è bastato per accendere timori e speranze in un territorio che deve molto a questo impianto. Oltre 2.300 sono i lavoratori sociali, a cui bisogna aggiungere 150 in somministrazione, e gli 800 dell'indotto che ogni giorno, 800 meri, che ogni giorno entrano all'interno dello stabilimento. Chiaramente, rispetto a una popolazione di poco superiore a 100.000 abitanti, si capisce che un quarto delle famiglie ternani sono interessate potenzialmente dall'acciaieria. Quello che per ora è certo è solo il passaggio di proprietà e per questo qui a Terni si aspetta di sapere che ne sarà dell'acciaieria. Manca infatti un piano industriale che presumibilmente arriverà con il prossimo anno. Quando l'azienda viene sempre venduta c'è sempre un attimo di blackout a livello emotivo e anche a livello lavorativo perché non si sa mai a cosa si va incontro. A prescindere da un proprietario italiano o meno quello che emerge fortemente è un piano industriale concreto, forte. Taranto, Terni e forse anche Piombino impianti che passano di mano per tornare di proprietà italiana e confermare la leadership del nostro paese insieme con la Germania nella produzione di questa materia prima. Si ritiene che una proprietà italiana abbia maggior rispetto di quella che è la nostra storia ultracentenaria industriale. Adesso rimangono delle preoccupazioni e delle aspirazioni delle legittime aspirazioni a verificare quello che sarà il piano industriale che Arvedi vorrà proporre sul territorio. Questo è il vero punto di snodo. Ma che la proprietà della produzione di acciaio torni italiana non basta per essere competitivi sul mercato perché poi il prodotto bisogna venderlo. Una partita complicata a cui la politica dovrà mettere mani e testa. Ci sono diversi centri di servizio o comunque diverse aziende che utilizzano l'acciaio che a seconda di come va il mercato non è che si fanno problemi ad acquistare acciaio cinese alcune volte anche a basso valore aggiunto e su questo la politica dovrebbe interrogarsi. Rischiamo sempre di avere una concorrenza sleale da parte di altre nazioni. Allora vado da Francesca Reddavido oggi sul Corriere dell'Umbria il presidente del gruppo siderurgico che è il cavaliere Giovanni Arvedi ha detto faremo delle acciaierie di Terni un gigante mondiale adesso però ci sono dei passaggi prima è attesa la risposta dell'antitrust europeo e poi ovviamente forse intorno a gennaio il piano industriale ha più timori o più aspettative rispetto a questa questione Reddavido Diciamo che le acciaierie di Terni sono un piccolo gioiello diciamo sono un'azienda una fabbrica una produzione siderurgica sempre stata di grande qualità noi sono anni che non abbiamo un piano industriale a Terni perché la Tissen ha lasciato per l'evoluzione interna alla multinazionale che era proprietaria una condizione di incertezza che dura da anni quindi che finalmente arrivi un piano industriale per noi è un elemento fondamentale che arrivi il prima possibile la cosa importante è che si discuta che ci si confronti e che si conosca e questo naturalmente sta dentro una questione generale che riguarda come veniva detto anche nel servizio dell'acciaio in questo paese in questo momento l'acciaio come dire tira tantissimo nel senso che abbiamo spesso aziende che si fermano proprio per mancanza di acciaio è una fase molto 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 alta noi abbiamo una condizione di riorganizzazione che dura da anni ricordo a tutti noi che le grandi acciaierie di questo paese sono state tutte passate attraverso le partecipazioni statali e quindi strutturate con denaro pubblico da Terni a Piombino che è la condizione più precaria di tutte a naturalmente l'exilva acciaierie d'Italia ci sarebbe bisogno di conoscere un piano nazionale sull'acciaio perché è vero noi abbiamo una grande risorsa di questo paese un asset strategico di questo paese ma come per tutto il resto noi i lavoratori e il sindacato non sanno assolutamente nulla di come il governo si stia orientando da questo punto di vista noi di solito veniamo convocati alla fine quando le decisioni sono assunte e i lavoratori vivono in una grande condizione di precarietà quindi noi siamo contenti che la questione di Terni arrivi a una sua definizione vogliamo conoscere naturalmente il piano industriale ma vorremmo conoscere anche il piano industriale sulla siderurgia in questo paese su cui sicuramente stanno lavorando ma noi siamo assolutamente all'oscuro è chiarissimo voglio chiedere una cosa che meriterebbe molto più tempo perché è una delle vertenze aperte più difficili considerando che si avvicina il 15 ottobre quella di Alitalia Ita e c'è il rischio che nel giorno del debutto della nuova compagnia aerea pubblica ci sia un grande sciopero come stanno le cose? Guardi Alitalia naturalmente non è il mio settore perché noi siamo metalmeccanici ma alcune cose le posso dire sicuramente noi ci troviamo di fronte ad un'azienda partecipata pubblica che dice che non applica i contratti nazionali applica un regolamento interno cioè stiamo dicendo che i salari dei lavoratori sono i più bassi che ci vogliono regole che ci sono i contratti pirata che vanno in qualche modo messi in discussione l'azienda rifiutando qualsiasi confronto con i lavoratori e con il sindacato fa un proprio regolamento ed esce fuori dal contratto nazionale quindi fa un contratto pirata allora io vorrei sapere chi è responsabile e chi non è responsabile in questo paese si chiama sempre la responsabilità dei lavoratori e del sindacato e si pensa che però la responsabilità significa fate come diciamo noi i lavoratori di Alitalia sono anni che pagano pagano per scelte sbagliate fatte dai governi e dalle imprese non per scelte sbagliate fatte dai lavoratori e che adesso si pensa di riprendere un'azienda così importante che con capitale pubblico e che con capitale pubblico dice non esiste più il contratto nazionale ma esiste un regolamento aziendale e i lavoratori di Alitalia vediamo forse assumiamo quelli o forse li lasciamo a casa e ne assumiamo di nuovi che appunto lasciando nella disperazione le persone non ci sembra molto responsabile come modo di iniziare e soprattutto in una visione in cui la ripresa e la resilienza non dovrebbe riguardare dovrebbe riguardare l'insieme del paese che è fatto dalle persone che lo abitano e ci lavorano Lupi la vicenda all'Italia però che pure il governo Draghi nella parte diciamo in questa parte finale ha gestito è una vicenda un po' insomma che lascia molto amaro in bocca adesso e ovviamente la grande preoccupazione come diceva Red Davide per tutti quei lavoratori che in questo momento sono fuori poi ci sarà la cassa integrazione so che il ministro Orlando insomma ci sta lavorando che poi è una cassa integrazione speciale per il trasporto aereo lo ricordo perché fu fatta appunto nel momento sì i lavoratori vorrebbero lavorare diciamo certo ma guardi su questo con me sfondo una porta aperta cioè sono per eliminare assolutamente il reddito di cittadinanza che è assistenzialismo e perché il lavoro lo danno le imprese poi le imprese sia di Stato o meno devono essere messe nelle condizioni di fare le imprese perché in Alitalia ci abbiamo buttato via 17 miliardi di euro adesso ne abbiamo messi altre 3 miliardi lo dice uno che ha seguito molto bene scusi se forse lei è d'accordo se mi lascia finire forse è d'accordo con me con quello che le sto dicendo allora adesso si è scelta una strada il governo Draghi l'ha ereditata parlo di Conte 1 e Conte 2 la strada della nazionalizzazione quando gli ultimi due governi Conte 1 e Conte 2 hanno deciso che rispetto alle crisi industriali di questo paese la strada è la nazionalizzazione arriva lo Stato e ci rimette tutti i soldi su questo noi non siamo mai stati d'accordo nel senso che bisogna stare sul mercato bisogna che la risorsa pubblica diventi un moltiplicatore della risorsa privata e che le aziende devono funzionare perché sono le aziende che danno lavoro la critica che faccio adesso nel momento in cui lo Stato ha deciso di nazionalizzare e ha trattato con l'Europa in maniera debolissima perché oggi la nuova ITA la famosa discontinuità totale che chiedeva l'Europa ha accettato l'Italia ha accettato delle condizioni che mai nessuno avrebbe accettato né la Germania né la Francia nel momento in cui dici quella è la mia compagnia di bandiera il marchio ma non esiste sulla faccetta che l'Europa mi dica ci metto i soldi dello Stato e il Marco è l'Italia lo devo mettere a gara ma dove siamo 2400 sono i dipendenti che devono essere messi quello che manca adesso e questo su cui ci torniamo d'accordo che quando arriva un signor manager che si chiama Altavilla che è il presidente ma è fuori dalla grazia di Dio che se tu parti il 15 ottobre e sei condizionato dal fatto che all'Italia vecchia ancora rimane e ti deve dare dei servizi cioè ti deve dare l'handling ti deve dare la manutenzione e per le relazioni sindacali in questo caso le relazioni sindacali non sono un optional sono fondamentali cioè tu hai degli obiettivi gestione efficiente dell'azienda eccetera ma non puoi tirare delle sberle ultima osservazione la rispetto del contratto nazionale piaccia ad Altavilla o non piaccia è nei fatti perché è l'unico modo con cui non l'ho fatto io l'ha fatto il ministro De Micheli con cui tu combatti le low cost c'è lo sa meglio di me che c'è un accordo una legge che dice che chiunque opera nel nostro paese anche se è una low cost estera deve applicare nel nostro territorio ai suoi dipendenti il contratto nazionale quindi mi sembra che siamo fuori dalla grazia di Dio mi sembra una volta importanti tutte queste osservazioni avete fatto sia Red David sia Lupi poi sentiamo subito Cabras e cose che conosce bene diciamo esatto e Emilia Patta subito dopo però Paolo Sottocorona che ci racconta come c'è una piccola apertura del tempo apertura nel senso un miglioramento o no ecco il bel tempo è sempre una pausa fra una perturbazione e l'altra mamma mia mamma mia che possibilità stamattina grazie si è svegliato male allora qual è qual è il punto che vedete che al centro e al sud ci sono delle schiarite la parte intensa ormai ha raggiunto la Grecia si è allontanata però c'è quest'altra zona che entra in questa circolazione questo significa che ci sono dei miglioramenti localizzati ma che ancora c'è molto da passare vediamo le piogge previste per la giornata di oggi quelle più intense medioversante adriatico ma anche parte della Romagna dell'Emilia dell'Appennino tosco-emiliano e poi al sud tirrenico vedete quando compare il colore giallo-roso sapete che sono precipitazioni molto intense quindi diciamo situazione critica poi c'è qualche zona dove non piove quindi ecco perché dicevo che non riguarda tutta l'Italia guardiamo domani si attenuano in parte queste piogge sul versante adriatico ma restano ancora molto presenti sull'Abruzzo sul Molise sul Gargano e poi al sud peninsulare ancora fenomeni molto intensi migliora un po' sul versante tirrenico al nord sul resto del nord qualche debole pioggia quindi le zone perturbate si restringono ma sono ancora ben presenti la giornata di sabato non vede grandi grandi miglioramenti perché al sud ancora ci sono fenomeni molto intensi c'è un'altra zona di fenomeni intensi che può sfiorare la Sicilia certo al centro c'è qualche pioggia debole o localmente moderata quindi nell'insieme la situazione sta migliorando ma arriviamo a sabato e ancora ci siamo dentro molto più tranquilla la foto che ci manda Elena ad Accuneo fatta col sistema dello Star Trail questi sono 200 scatti messi insieme queste linee che vedete sono le luci la traccia delle stelle che nelle ore si spostano quindi sono le luci in alto queste gialle sono delle lucciole quindi sono le luci in basso quindi brilla qualcosa in alto brilla qualcosa in basso l'insieme devo dire che è piuttosto bello io pensavo fossero dei dischi volanti perdonami grazie a Palo Sottocorona qualche minuto di pubblicità torniamo qui esauriamo il discorso all'Italia e poi diciamo due cose in vista del ballottaggio anche a tra poco allora Cabras all'Italia che ne pensa di questa vicenda di questa anzi ex all'Italia si chiamerà Ita Light peraltro non è secondario adesso al di là di tutti i problemi che ci sono la questione del marchio del simbolo di cui parlava Lupi mi pare 290 milioni a base d'asta però è abbastanza surreale pensare che la nuova Ita non possa avere un marchio che non è solo il marchio cioè che rappresenta l'italianità insomma che ha molti simboli dentro è un marchio storico bene avviato e devo dire che altri paesi hanno tutelato molto bene le loro compagnie di bandiera spendendo perfino più dell'Italia perché questa cosa molte volte non viene ricordata perché c'è l'interesse dello Stato ad avere un tessuto connettivo dal punto di vista dei trasporti mentre l'Italia è il paese che ha buttato nella fornace dei debiti delle ristrutturazioni che hanno favorito alcuni privati questo avviene ad esempio nel settore del trasporto delle navi che conosco bene i trasporti della Sardegna le privatizzazioni sono andate molto mali e lo Stato ha speso anche molto di più bisognava puntare a salvaguardare meglio il marchio ad ascoltare anche quanto avevano da dire i lavoratori che in questi anni sono stati ridotti a spettatori passivi di quello che stava avvenendo nella loro azienda mentre i manager sprecavano o sbagliavano strategia e questi lavoratori hanno delle soluzioni da proporre io credo che l'Italia quello che rimane di quella realtà aziendale vada rilanciato e non si possa accettare che tutto il sistema poi venga gettato nella precarietà c'è un problema generale di un'Italia che non ha più una visione strategica sui problemi industriali sta subendo gli avvenimenti oggi avviene anche nel settore dell'energia che è connesso a quello dei trasporti a quello delle materie prime negli anni in cui c'è stata una nuova guerra fredda in Europa contro la Russia si è sprecata l'occasione di fare dei contratti molto più sicuri con la Russia in questo momento i russi cosa fanno? vendono il gas ai cinesi aprono e chiudono i rubinetti che fanno anche cambiare i prezzi e lo fanno anche gli Stati Uniti con le loro navi casiere voglio dire una cosa che alla vicenda all'Italia ovviamente non dimentichiamoci due cose che intanto credo che il piano industriale insomma uso questa definizione per capirci prevede ovviamente delle tappe ma diciamo da quei prossimi anni quindi di riassorbimento anche poi vedremo di una parte dei lavoratori non dimentichiamoci che il turismo internazionale ancora soffre moltissimo e questo è un altro problema immenso per una compagnia diciamo che nasce ufficialmente il 15 ottobre ma insomma questo è un altro discorso Emilia Patta vicenda all'Italia che vuoi aggiungere? volevo aggiungere intanto che partire con uno sciopero generale uno sciopero dei lavoratori nel giorno in cui parte Ita non è proprio il massimo della responsabilità ma a parte questo voglio fare una riflessione più generale perché proprio due giorni fa è stata approvata è stato dato parere favorevole del governo una mozione della maggioranza che impegna appunto il governo a sostenere ulteriormente i lavoratori con ammortizzatori sociali strumenti di sostegno al reddito e formazione e ricollocazione volevo mettere l'accento su quest'ultima parte perché non possiamo continuare a usare denaro pubblico per mantenere artificialmente dei posti di lavoro allora va rafforzata sicuramente la famosa seconda gamba del reddito di cittadinanza che è quella appunto delle politiche attive cioè dobbiamo entrare nell'ottica che alcuni lavoratori non potranno essere riassorbiti quindi anche con l'occasione del PNRR con i fondi pubblici bisogna attivare le politiche attive che sono la formazione e la ricollocazione professionale di alcuni lavoratori anche credo quelli di Alitalia perché la soluzione di continuare ad usare i soldi pubblici per mantenere artificialmente dei posti di lavoro non ha molto senso economico e poi vediamo che non è più possibile neanche per le nuove normative europee quindi volevo sottolineare questo punto manca in Italia da molti anni una serie politica attiva del lavoro ecco quindi politica industriale politica attiva del lavoro insomma non sono questioni secondarie senta Davide perché devo fare un paio di domande politiche le chiedo grandissima sintesi per darci un aggiornamento credo che oggi ci sia al Mise in primo piano ancora la vertenza GKN mi pare sappiamo che la multinazionale M&Rose il fondo M&Rose aveva messo diciamo aveva licenziato i 400 mi pare 22 operai c'è stata la decisione del tribunale del lavoro che ha giudicato i comportamenti antisindacali questa decisione e quindi diciamo adesso sono congelati questi licenziamenti che succede? intanto oggi c'è un incontro perché noi abbiamo fatto un articolo 28 che ha considerato l'atteggiamento antisindacale e quindi come dire ha riaperto una discussione speriamo abbia riaperto una discussione questa è una classica cosa di quello che sta succedendo in questa fase sono fondi che hanno deciso di licenziare i lavoratori in 75 giorni e che hanno un mercato che tira tantissimo perché naturalmente come dire stavano lavorando a pieno ritmo loro quelli della Giannetti quelli del Tinken e così via noi pensiamo che vada difeso il sistema industriale di questo paese noi facciamo la nostra parte tenendo aperte le aziende attraverso le lotte teniamo aperte le aziende pensiamo che il governo e le imprese debbano fare la loro parte perché in questi anni di mercato i soldi alle imprese sono state date e solo in Italia c'è stata questa obbligatura di mercato che è pesata solo sulle lavoratrici e sui lavoratori noi pensiamo che in una fase come questa di transizione di sistema nell'automotive bisogna ragionare su strumenti di sistema per affrontare la transizione non si affrontano con i licenziamenti dei lavoratori le politiche attive si fanno in costanza di rapporti di lavoro e si fanno mettendo a disposizione degli strumenti che consentano di tenere aperte le aziende non di chiudere le aziende in questo paese noi speriamo che oggi si riapra questa discussione come abbiamo tenuto aperto Whirlpool e vediamo che cosa succederà in questi giorni e come pensiamo vada tenuta aperta la Giannetti perché non è con le chiusure che si affronta il PNRR peraltro qui dovremmo aprire una discussione che riguarda che incroce inevitabilmente la transizione ecologica la sostenibilità ambientale non abbiamo tempo mi fate sentire Calenda 20 secondi di Calenda penso che bisogna andare a votare al ballottaggio perché è un dovere civico e come tale andando a votare al ballottaggio sicuramente non voterò Michetti voterò Gualtieri perché mi corrisponde di più Michetti non c'è uno straccio di programma non c'è uno straccio di classe dirigente non c'è uno straccio di niente questo non vuol dire che io stia dando un'indicazione di voto urbi e torbi allora lui dice Calenda dice io mi esprimo a titolo personale poi gli elettori che hanno scelto la mia unica lista peraltro prima lista a Roma lo ricordiamo mi pare sul 19% si comporteranno come preferiscono due domande Lupi intanto dal punto di vista posto del centro-destra sono aperte ancora le partite di Roma e Torino assolutamente e devo dire che come ha detto prima lei è evidente che una vittoria a Torino e a Roma cambierebbe anche la lettura poi di queste elezioni amministrative e puntualmente l'ha sottolineato ritornando alle questioni politiche la giornalista solo le 24 ore quando Salvini dice attenzione il centro-destra hanno votato non solo 5 grandi città ma ha votato quasi 20 compreso la regione Calabria 20 milioni di cittadini e ancora il centro-destra è maggioranza complessiva nei cittadini il tema delle grandi città è un altro è più politico è anche più di sfida di governo per il centro-destra perché nelle grandi città è come il governo del paese devi essere in grado di mettere in campo candidati credibili e proposte insomma infatti capite le sue parole che si potevano scegliere diversamente i candidati ma poi adesso col senno ma devo dire che io ho detto abbiamo preso una bella scoppola Salvini ha detto abbiamo perso col senno gli elettori hanno sempre ragione però adesso abbiamo una sfida una sfida importante che è quella di Roma e che è quella di Torino dobbiamo giocare fino in fondo a Roma e a Torino in ogni caso i vecchi sindaci hanno fallito nel senso che ricordo che erano due sindaci del Movimento 5 Stelle e comunque paradossalmente proprio in queste due città certo sono uscite di scena sono stati mandati a casa allora adesso io credo che questi dieci giorni il centro-destra deve recuperare serietà credibilità abbiamo suggerito a Michetti di presentare per esempio una squadra autorevole perché anche questo non si vince da soli si vince rimettendo in capo tutta la capacità di governo se mi dici una battuta i Dragoni questi grandi movimenti al centro per un partito per Draghi non di Draghi voi ci sareste di diritto dentro questo movimento ma io credo che dovrebbe esserci di diritto tutto il centro-destra e lo dico dicendo ebbè no sa che le ali estreme sono tenute fuori lo dico non per dare una risposta democristiana ma semplicemente che Draghi che non si candiderà mai come fece Monti sta creando uno spazio politico incredibile per la politica cambiando i fattori moralità del fare concretenza serietà capacità attenzione ai cittadini ma non è la proposta politica del centro-destra e comunque questo è il centro moderato questo è quello che noi abbiamo sempre fatto così lo diceva ieri Librandi d'Italia Viva li chiama i Dragoni nasceranno? sì secondo me io credo che vedremo ma noi dobbiamo rafforzare nella coalizione politica del centro-destra tutta la parte moderata che abbiamo visto quando si presenta insieme Calabria sta pensando anche la Calabria vede la Calabria il 40% dei voti abbiamo preso tweet Cabras che diceva che Draghi sta distruggendo i partiti ma non è colpa di Draghi no no è arrivato lì anche per la debolezza è stata una specie di solvente per partiti che in effetti erano in grande crisi lo vediamo anche dalle inchieste che colpiscono simultaneamente tutti i partiti segno di una grande crisi e dal fatto che oltre metà degli elettori e io li capisco non hanno voluto votare questi partiti quindi serve una rappresentanza diversa in questo momento perché viene schiacciata da un governo che non risolve i problemi è che è appoggiato da partiti che vi si attaccano quasi disperatamente anche questi tentativi di dire stiamo con Draghi da ex Cinque Stelle diciamo queste amministrative sono state un disastro per i Cinque Stelle sì sì praticamente sono un'attacca sopra lo zero io credo che sia la naturale conclusione di grandi errori storici e quindi serve qualcosa di diverso rispetto a quell'esperienza grazie grazie Emilia Patta un tweet nascono i dragoni in un tweet rispondo che dipende molto dalla legge elettorale se rimane questo schema bipolare difficilmente nascerà un grande centro che potrà nascere dalla scomposizione dei poli per intenderci Forza Italia rimarrebbe comunque nel campo del centro-destra se invece si va verso una legge elettorale proporzionale sicuramente c'è un grande spazio ma anche all'interno dello schema bipolare non bisogna sottolautare la prova di Talenda a Roma certo il 19% non significa il 19% in Italia è ovvio ma si sta muovendo qualcosa nel centro del centro-sinistra a cui Letta deve guardare con grande attenzione anche perché dall'altra parte c'è la frana del Movimento 5 Stelle quindi se vuole essere competitivo deve dialogare con correnze calenti Emilia torna a trovarci dobbiamo parlare di tante cose di politica anche con te vado da Mirta che saluto buongiorno Mirta buongiorno caro Andrea allora continuiamo a ragionare ovviamente della situazione politica Salvini che continua a menare come un fabbro Draghi sempre imperturbabile ma chi si stuferà per primo questa è la grande domanda che dobbiamo farci questa mattina anche perché parliamo della riforma del catastro come ben sappiamo che se tutto va bene potrebbe accadere nel 2026 oggi invece accade che GKN è a Roma con gli operai disperati oggi accade che le bollette salgono oggi accade che l'inflazione impazzisce chi si sta occupando di tutto ciò con noi con Fredo Buccini Alessandro Sallusti Deborah Serracchiani Francesco Lollobrigida molti collegamenti da Roma dai palazzi con GKN che è in piazza quest'oggi a Roma Oscar Farinetti grande ritorno Matteo Richetti Gianni Riotta Gianluigi Paragone tre filetti e arriva Massimo Galli perché abbiamo un sacco di domande da fare anche perché come sapete c'è stata anche un'inchiesta anche su un altro fronte diciamo non solo quello squisitamente sanitario siamo qui per voi grazie grazie Mirta tra poco c'è la reghettira ringrazio Francesca Reddavid Emilia Patta Maurizio Lupi Pino Cabras ci vediamo domani stessa ora stesso luogo c'è la reghettira grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti